Stiamo ingustando le mascherine per la popolazione ennese suddividendole in sacchetti in base ai nuclei familiari in modo tale da agevolare la distribuzione anche in maniera più sterile possibile per non toccarli con le mani durante la distribuzione stessa. In tutto sono più di 35.000 mascherine per tutti i nuclei familiari che sono più di 11.000. Questa settimana sarà impiegata da noi volontari per la consegna delle mascherine. Ieri ne abbiamo consegnate circa 1.800 e ancora oggi siamo impiegati in un'altra piazza del paese per dare le altre mascherine. Siamo a 5 persone. Al COC siamo operativi 6 giorni su 7 mattina e pomeriggio. Cerchiamo di soddisfare quante più persone possibili. L'attività svolta all'interno del centro bellissimo comunale del Gira è stata che noi volontari abbiamo sottrattato l'equipe medica nel fare i tamponi nel comune del Gira. Noi siamo l'associazione volontari del soccorso di Santa Croce Camerina e stiamo per cominciare la seconda distribuzione dei tablet per conto della scuola dell'istituto comprensivo Pissaumile di Camerina. Mai e c'è ancora un po' di persone che necessità più o